Grazie alla vittoria del prestigioso Career Development Award Arminisa Harvard, finanziato dalla Fondazione Arminisa Harvard, ente con sede a Boston, che da decenni sostiene la ricerca di base in campo biomedico, la dottoressa Luisa De Vivo, dopo anni di attività di ricerca all'estero, è approdata alla Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute di Unicam, dove ha avviato un proprio laboratorio per lo studio degli effetti della restrizione cronica del sonno e dell'abuso di sostanze durante l'adolescenza. Sono Luisa De Vivo, sono una ricercatrice presso la Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, quell'Università di Camerino. Sono rientrata in Italia grazie al Career Development Award, finanziato dalla Fondazione Arminisa Harvard, che mi ha permesso di aprire qui un laboratorio e di condurre le mie ricerche sul sonno. Questo laboratorio è interessato a capire per quale motivo il sonno sia così importante per un funzionamento ottimale del cervello e per la nostra salute mentale. In particolare il progetto finanziato dalla Fondazione servirà a studiare gli effetti a lungo termine della deprivazione cronica di sonno esperita durante l'adolescenza. Andremo a studiare i meccanismi biologici che si attivano in risposta alla perdita di sonno, utilizzando diversi approcci, quindi andando a guardare cosa succede a livello delle nostre cellule nel cervello, sia a livello anatomico, quindi guardando le connessioni tra le aree del cervello, ma anche a livello funzionale, quindi guardando cosa cambia nei circuiti delle aree cerebrali che secondo noi sono più sensibili alla perdita di sonno. Andremo anche a studiare dei marker molecolari di neuroinfiammazione e speriamo con questa ricerca di identificare delle nuove strategie per prevenire o per contrastare le conseguenze negative della perdita di sonno.